Buonasera a tutti, vediamo questa terza parte di questo mini corso dove vi segnalo una serie di risorse presenti all'interno del blog per imparare il business del training passo passo. Siamo partiti con un primo articolo, un primo video che trattava l'approccio al business, poi abbiamo cominciato a parlare dei comportamenti del mercato, comunque i grafici e un po' ancora di approccio e adesso praticamente qualche elemento per interpretare i grafici a barre e le dinamiche di mercato. Il mercato praticamente si interpreta attraverso un grafico a barre che indica i comportamenti semplici e complessi del mercato, comportamenti semplici si rilevano attraverso i comportamenti delle singole barre, comportamenti complessi attraverso l'interpretazione di schemi di prezzo che indicano fasi di azione, quindi determinate fasi di azione che producono solitamente le reazioni che in parte sono note. Il punto qual'è? Che alla base di tutto questo ci deve essere una gestione efficace, quindi non come spiega Vantarpe, abbiamo parlato anche nella sessione precedente, dobbiamo puntare non tanto sulle nostre capacità previsionali, ma sulle nostre capacità gestionali, perché mai nessuno riesce a sviluppare delle strategie di training che guadagnano sempre, come non è possibile per un'azienda portare avanti le proprie attività senza avere le spese. È naturale gestire le spese in qualunque attività e quindi è naturale anche in attività di trading, quindi partire con l'idea di costruire un'attività che deve solo guadagnare chiaramente è una sciocchezza infinita. Insomma, ok? Soltanto una persona ingenua può pensare una simile sciocchezza. Qui nel menu si trovano poi le ulteriori registrazioni precedenti per chi non li ha viste. Allora, in questo terzo articolo che ho pubblicato oggi e vi ho segnalato attraverso la nostra newsletter dedicata agli studenti del coaching gratuito, vediamo in questo articolo gli elementi necessari per la comprensione del grafico a barre ed alcuni approfondimenti utili per lo studio delle dinamiche di mercato. Quindi studiamo il comportamento delle singole barre e studiamo... Vediamo se si vede il video, lo vedete, ok. Studiamo quindi il comportamento delle singole barre e poi studiamo i comportamenti degli schemi compressi, gli schemi di prezzo e le dinamiche che ci sono attorno a questi schemi di prezzo. In base allo studio che andiamo a fare, ci rendiamo conto che il mercato configura le fasi che siamo in grado di riconoscere e che producono un certo numero di volte le reazioni note, ok. Quindi siamo in grado di anticipare il mercato un certo numero di volte, ma non sempre. Per questo alla base della nostra attività ci deve essere la gestione, una gestione efficace in grado di garantirci spese di piccole entità e quando il mercato invece, come dire, riusciamo a anticiparlo in modo efficace e andiamo a massimizzare quello che è il risultato, ok. Infatti qui spiego che partiamo dal presupposto che per fare profitto abbiamo bisogno di variazioni di mercato sufficientemente ampie, pertanto è necessario anticipare il mercato un certo numero di volte per realizzare un profitto, però non è necessario anticiparlo con esattezza ogni volta, è sufficiente trovare nei contesti che sono in grado di produrre una reazione nota un certo numero di volte. Tutte le volte che abbiamo torto ci impegniamo a garantire spese di piccole entità alla nostra attività di trading, quando invece la nostra capacità previsionale, che deve essere insomma un 20% nel nostro lavoro, diciamo l'80% capacità gestionale e 20% capacità previsionale, legge riparito, ritorna un po' in tutto, quando riusciamo a trovare un certo numero di opportunità che rispettano le aspettative, a quel punto si massimizza il profitto, ok. Quindi attraverso questa gestione si giunge a un risultato, non attraverso un modello che porta solo profitti e non porta spese, ok. No, perché, lo spiego, è chiaro che è una cosa scontata per la maggioranza delle persone, ma attraverso il coaching gratuito l'idea è dare le indicazioni per capire dove si sbaglia e cominciare a studiare in un modo mirato e concreto, ok. Chi inizia, spesso questa problematica ce l'ha, lo vedo attraverso i messaggi che ricevo, per questo dedico qualche minuto a questa precisazione. Allora, Van Tarp spiega appunto questo discorso e la gestione che è molto importante e vi segnalo delle registrazioni che ho fatto anni fa, per esempio questo webinar realizzato con Swissquot diversi anni fa, l'ho messo nel blog nel 2014, ma non so, forse è anche ancora più vecchio, forse è ancora più vecchio. E un altro sulla struttura delle tendenze. Ecco, questi qui sono i due webinar, preparare anche le slide, due webinar che consiglio di base a tutti quanti, perché tutti quelli che non ne sanno abbastanza e che vogliono imparare e interpretare un grafico a barre, ok, proprio la base fondamentale. Poi cominciamo a vedere come interpretare dei singoli comportamenti del mercato, elementari, molto semplici ma fondamentali per cominciare a capire come funziona, il comportamento prevedibile delle barri di trend, ok, cioè la barra di trend ha un comportamento ciclico, la barra di trend è un tipo di barra, no? Vediamo un attimo verso la lavagna. La barra di trend è una barra che in un trend real di sta chiude in prossimità del proprio massimo, ok? Mentre la barra si chiude così è una barra di collasso, chiamo io collasso, uso io questa terminologia e è una barra pivot, possiamo chiamarla come volete, ok? Però indica praticamente un fallimento nel tentativo di sviluppo di una tendenza. Invece una barra di questo tipo è una barra di trend, perché chiude in prossimità del proprio massimo ed esprime una fase di trend e soprattutto chiude oltre un massimo significativo della barra precedente, ok? Le barre di trend tendono a configurare dei comportamenti ciclici e ripetitivi e ne parlo praticamente in questi articoli, spiego che in presenza di prese di profitto ridotte si anticipa lo sviluppo di un'ampia tendenza, questo a tutti i livelli su time frame elevati quindi giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, annuale, ok? Su time frame intraday per esempio queste dinamiche sono leggermente diverse e quindi questa spiegazione non rientra adesso nell'ambito intraday che rientra in una spiegazione a parte insomma, ok? Però partiamo da quello che avviene nell'ambito giornaliero, settimanale, mensile che è quello che poi ci serve anche per giungere poi a un'attività intraday, ok? Poi abbiamo la teoria, il segmento dura 2-5 barre che significa che ogni volta che si sviluppa una tendenza la parte di trend che è sviluppata dalle barre di trend dura solitamente dalle 2 alle 5 barre poi inizia un collasso e inizia una fase correttiva e poi nuovamente, ok? Quindi questo ci serve, è una spiegazione molto molto semplificata di una teoria più ampia, ok? Però serve per capire quando una tendenza è in fase di esaurimento o è all'inizio del proprio sviluppo quindi definire già con questa informazione una prospettiva, ok? Io guardo una tendenza che ha già tre barre di trend guardo i segmenti di trend precedenti mi rendo già conto che quella tendenza sta giungendo al termine mi devo aspettare una fase correttiva, ok? Quando opero devo sempre evitare di subire una fase correttiva perché le fasi correttive si muovono velocemente e quindi mi portano via la maggior parte del profitto se prima ne ho accumulato un po', ok? Quindi devo imparare a rilevare questi comportamenti molto importante La teoria di Do Passo successivo, ve li metto in ordine proprio per darvi le indicazioni come le tendenze si sviluppano ed è, diciamo, la base sul quale ha lavorato Elliot per sviluppare la teoria di Elliot che è molto più ampia e molto più molto interessante, insomma molto più completa, ecco il termine giusto ok? Quindi come si sviluppano le tendenze il comportamento delle barre ancora di più si può ampliare il discorso studiando come rilevare massimi e minimi di breve, medio e lungo termine li metto in questo ordine proprio per darvi le indicazioni su come, per come studiare queste cose negli articoli ci sono anche delle indicazioni sui libri quindi questo argomento potete studiarlo su quel libro piuttosto che su quell'altro io l'ho preso, ok? vi indico dove l'ho preso e da dove sono partito per fare le mie elaborazioni un articolo sulle onde di Elliot quindi un passettino ancora avanti per comprendere il comportamento delle tendenze ok? e poi unire tutto quanto praticamente mano a mano che si va avanti ancora un altro contenuto che vi consiglio come interpretare un grafico a barre per capire la direzione della liquidità ecco, questi articoli qua se voi ve li mettete a studiare vi danno un ottimo punto di riferimento per cominciare a capire come si leggono i grafici a barre come si individuano le tendenze come si strutturano le tendenze ok? e tutto questo serve per cominciare a parlare di dinamiche di mercato perché ne parliamo di dinamiche di mercato studiando il comportamento prevedibile della barra di trend ma c'è molto altro da dire facendo questa preparazione durante la prossima sessione noi parleremo in modo specifico di schemi di prezzo e di dinamiche di mercato ripetitive cioè come individuare delle fasi di mercato che sono rilevabili e studiare il comportamento che c'è attorno sulla base di questo lavoro che andiamo a fare in pratica possiamo poi definire dei piani di trading che lavorano attorno a quelle dinamiche di mercato ripetitive cioè io vedo una cosa so quella cosa che cosa è in grado di produrre ok? può produrre un ventaglio di possibilità attorno a quel ventaglio di possibilità io scrivo un piano di trading che prevede delle regole per garantirmi delle spese di piccole entità ogni volta che il mercato non si comporta bene mentre ogni volta scusate che si comporta bene riuscirò a massimizzare praticamente il profitto tutto parte dallo studio del mercato dallo studio degli schemi e delle dinamiche di mercato che sono ripetitive attorno a questi schemi ok? questo è il diciamo quello che volevo aggiungere rispetto all'articolo c'è insomma parecchio materiale da lavorare da studiare attorno appunto nel blog io ho pubblicato negli anni tanto materiale questi articoli e questi video mi aiutano praticamente a darvi le indicazioni per utilizzare il materiale in modo più mirato in ordine ok? più preciso per metterne a frutto insomma i vantaggi che ne possono derivare ok? ragazzi io vi auguro buone feste fate buone feste settimana prossima non credo che faremo la tendenza perché siamo in area di festa e anche la settimana successiva dai dopo la Befana riprenderemo le nostre sessioni settimanali e riprenderemo insomma a pieno regime vi darò un po' ancora elementi per continuare parleremo in modo particolare di schemi di prezzo e dinamiche di mercato come vi ho spiegato con l'intento poi di darvi ulteriori indicazioni per creare dei piani di trading più semplici ecco per entrare in quel binario ecco lo stesso binario che ho seguito io per cominciare a mettere in ordine la mia attività ok? e quindi per questo parto dal presupposto che possono essere utili queste informazioni perché a me sono state utili ok? ragazzi io vi auguro buona serata e fate ottime feste ciao a tutti grazie